carissimi ma soprattutto carissime bentornati qui su 80 passione amanti del tennis il terzo giorno delle ATP Finals di Torino è partito col botto perché Daniel Medvedev numero 2 del mondo nonché campione uscente ha sconfitto dopo 2 ore 35 minuti il numero 3 del mondo Sasha Zverev medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo quest'anno. Non è mai una partita banale tra questi due giocatori? Si dice che non scorra buon sangue e che alla fine i due giocatori non si piacciono più di tanto e credo che anche oggi durante l'incontro ne abbiamo avuto più di una volta una riprova. Questa partita ha avuto tantissimi risvolti dopo un'ora io avevo la sensazione che Medvedev potesse tranquillamente portarla a casa perché il giocatore russo dopo aver fronteggiato gli unici due breakpoint di tutto l'incontro giusto nel game nel gioco di apertura del primo set sotto 15 40 ha inserito immediatamente le marce alte e ha breccato il suo avversario nel secondo gioco. A quel punto sembrava veramente in versione playstation prendeva di tutto aggressivo aspettava quasi come un orologio svizzero l'errore puntuale dell'avversario che guardava il suo angolo e sembrava frustrato non avere risposte non sapere come riuscire a fare punto all'avversario e così dopo 38 minuti Daniel vinceva il primo set con il punteggio di 6-3. Mostravano alcune statistiche schiaccianti in quel punto stava vincendo l'80% degli scambi da fondo campo e il 93% dei punti quando metteva la prima in campo e ancora una volta Zvere ha dovuto fronteggiare nuovamente e salvare delle palle break nel primo gioco del secondo set e a quel punto dopo essersi aggiudicato quel gioco ha cercato di portare dalla sua il pubblico cercando con le mani di ricevere un pochettino di sostegno e devo dire che oggi il palatur di Torino era completamente per lui forse perché in base ad alcuni calcoli a una formula particolare dei round robin delle finals si sperava che vincendo Zverev ci fosse ancora qualche possibilità per il nostro Matteo Berrettini che parentesi non si sa ancora se giocherà stasera contro Urkac ieri mattina quando si è svegliato dice che il dolore era meno grave di quello che lui avvertisse immediatamente alla sera dopo l'incontro contro Zverev ha fatto una risonanza magnetica ma il suo staff il suo entourage ha preferito non rivelare quelli che sono stati i risultati fatto sta che diciamo che la diagnosi era non era grave come si aspettavano e che comunque Matteo si scalderà oggi pomeriggio è previsto un allenamento ora locale del 5.45 e lo sapremo soltanto proprio al photo finish comunque sia anche Sinner si sta preparando ed eventualmente sarà lui a sostituire l'altro azzurro ritornando all'incontro a quel punto Zverev cercava di aggrapparsi disparatamente al suo servizio perché non riusciva minimamente a scalfire Medvedev durante i suoi turni di servizio il russo sembrava completamente in controllo e molte volte è riuscito ad andare anche 0.30 o 15.40 fatto sta che poi dopo il tedesco ha portato l'incontro al tiebreak e a quel punto c'è stata una svolta ebbene sì perché Medvedev si è nervosito perché gli è stato fischiato un doppio fallo poi c'è stato un replay che ha mostrato che effettivamente lui aveva fatto una invasione con il piede quindi secondo me un pochettino si è distratto il pubblico ha incominciato a fischiarlo lui logicamente è entrato in questa lotta a distanza con gli spettatori mostrava anche il pollice verso il basso e dopo un'ora e 37 Zverev riusciva a impattare sull'uno pari aggiudicandosi il tiebreak per il punteggio di 7 a 3 arrivati a quel momento devo dire che l'incontro poteva andare in qualsiasi direzione anche perché Zverev sembrava molto più convinto molto più solido anche con la sua seconda di servizio e vinceva molto più agevolmente i suoi turni in battuta e Medvedev sembrava non riuscire più a leggere non riuscire più a dominare l'incontro dal fondo campo quindi l'epilogo forse più giusto e più ovvio era quello nuovamente di andarsi a giocare la vittoria finale e deciderla al tiebreak a questo punto c'è stato praticamente un primo allungo di Zverev che è andato avanti per 4 a 2 dopo c'è stato un ritorno di Medvedev che si è portato sul 6-4 in suo favore Zverev a quel punto ha annullato i primi due match point ma dopo non ha potuto niente è stato singolare che sul 6-5 sulla seconda di servizio Medvedev abbia optato per un serve in volle ma è stato passato dal tedesco dopodiché Medvedev è rimasto concentrato ha fatto una grandissima risposta e dopodiché è riuscito a vincere l'incontro ed è la quinta volta consecutiva che batte Zverev e la prima volta che si aggiudica un tiebreak contro il giocatore tedesco a questo punto calcoli alla mano Medvedev è sicuro del passaggio alle semifinali non credo ancora matematicamente del primo posto perché come sapete è una formula molto molto particolare quindi qualora Urkac dovesse credo vincere stasera anche lo stesso Sinner dovremo un pochettino fare dei calcoli anche per Zverev tutto è ancora aperto lui che giocherà l'ultima partita tra due giorni contro il giocatore polacco e quindi ne vedremo delle belle devo dire che secondo me entrambi i giocatori mi hanno sorpreso sicuramente Medvedev è molto più in palla e a niente è servita la superficie più veloce rispetto a Parigi-Bercy dove i due giocatori si erano affrontati 11 giorni fa e in quel caso aveva vinto in maniera schiacciante con un doppio C2 proprio Daniel Medvedev a questo punto vedremo anche Daniel ha scritto qualcosa di not today non lo so anche sulla telecamera alla fine sapete col pennarello quando scrivono un messaggio sembrava come dire non oggi anche se mi tremano le mani è sempre molto enigmatico mi ricorda anche un pochettino a livello di atteggiamenti Djokovic non a caso lo chiamo il Djokovic 2.0 perché è un giocatore che si nutre molte volte anche dell'astio del pubblico per trovare nuove energie e forse riuscire a trarre beneficio da quelle situazioni per poi scaricare tutta l'adrenalina in in campo oggi devo dire soprattutto per nei primi due set è stato fantastico a livello di copertura del del campo considerando anche le sue leve non so veramente come riesca a correre avanti indietro lateralmente è ancora un mistero non so se qualcuno potrà mai spiegarmelo caso mai cercate nei commenti comunque fatto sta dobbiamo attendere un paio di ore poi sapremo se sarà Matteo Berrettini contro Urkac o Yannick Sinner una piccola parentesi sul gruppo verde che ha fatto il suo esordio ieri il numero uno del mondo ha vinto agevolmente contro Kasper Rud in un primo set combattuto dove il norvegese si era praticamente procurato un break di vantaggio ma è stato riacciuffato dal giocatore serbo che poi dopo nel tie break ha mostrato tutta la sua freddezza e la sua classe e nel secondo set credo che abbia vinto agevolmente per 6-1 invece in serata Andrei Rublev ha approfittato di una condizione non proprio ottimale di Stefano Zizipas per vincere con un doppio 6-4 quindi domani avremo per la prima volta Novak Djokovic contro Andrei Rublev non si sono mai affrontati precedentemente questi due giocatori e poi Stefano Zizipas contro Kasper Rud. Con questo è tutto come potete vedere anche da quanto sto sudando la temperatura sta salendo man mano che ci avviciniamo al fine settimana e entreremo nel momento più topico di questa competizione e quindi niente io adesso vi saluto mi vado a fare una doccia mi preparo per stasera per Matteo o Yannick forza insomma Italia forza Azzurri e ci risentiamo presto rimanete sintonizzati iscrivetevi al canale con questo è tutto ciao